Opportunità per le persone disoccupate o in cassa integrazione della provincia di Lecco tra i 18 e i 55 anni. Alvia un percorso di riqualificazione in ambito meccanico di 397 ore. Se la frequenza supererà il 75%, la formazione sarà retribuita. È la terza edizione dell'Ecco Skills Training Lab con Api Lecco come ente capofila. Al termine del percorso teorico e pratico, i partecipanti effettueranno un tirocino di due mesi, un tirocino retribuito presso le aziende del territorio e del settore metallo-meccanico. Noi come associazione e gli altri partner abbiamo già parecchie aziende che si sono candidate ad avere i partecipanti nelle proprie aziende in qualità di tirocinanti. Qual è la percentuale di assunzione rispetto alle due edizioni precedenti? La percentuale di assunzione nell'ultima edizione è del 79%, quindi la maggior parte delle persone che hanno fatto il tirocinio sono poi state confermate nelle aziende in cui hanno lavorato. Il progetto è confinanziato da Camera di Commercio e Provincia di Lecco. L'importante di questa iniziativa è per cercare di ricollocare e riqualificare il personale. Quindi noi come azione politica mettiamo sempre al centro la persona e quindi diamo la possibilità a quelli disoccupati o chi vuole riqualificarsi o chi vuole avere un futuro migliore nell'ambito lavorativo di poter partecipare a questo corso professionalizzante che alla fine del percorso sicuramente sarà assunto dall'impresa. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre. Per informazioni contattare il numero 0341282822 o scrivere a ufficioformazione.chiocciolaapi.lecco.it Grazie a tutti.